Più di due pesci su tre consumati in Italia provengono dall'estero con il rischio evidente che venga spacciato come made in Italy pesce importato, anche perché al ristorante non è obbligatorio indicare la provenienza. E quanto denuncia Coldiretti Impresa Pesca da questa situazione non è esclusa nemmeno una piazza importante dell'Adriatico come Manfredonia, ma per il presidente di Coldiretti Impresa Pesca Foggia, Ezio Greco, tutto questo si verifica, non per assenza del pescato ma per una cattiva organizzazione e gestione della commercializzazione. Sicuramente c'è un dato di import molto importante, ma innanzitutto perché i nostri stock ittici non garantirebbero i nostri consumi se non fino a maggio, questo dovrebbe essere l'ultimo dato in smia, ma poi ci sono anche delle distorsioni dal punto di vista legislativo che caricano il pesce soltanto in determinati giorni della settimana, nella fattispecie le barche possono uscire la domenica a mezzanotte e rientrare entro il giovedì. Questo comporta solitamente due rienti, il martedì e il giovedì. Il pesce arriva in determinati giorni con i pezzi che crollano drasticamente e lasciano praticamente scoperto tutto il resto della settimana. Anche questo sarebbe risolvibile con un'attività di rappresentazione della categoria. Quindi in poche parole i ristoratori, così come anche chi consuma pesce, è costretto a comprare pesce importato? Sì, in alcuni giorni della settimana, come il lunedì e talvolta anche il martedì, è praticamente impossibile trovare pesce fresco se non nei pressi delle zone di pesca. Parlo quindi di pesce fresco a Milano piuttosto che in altri paesi d'Italia che non hanno il porto a portata di mano. Sarebbe auspicabile appunto la distribuzione delle giornate di pesca in più giornate della settimana. Grazie a tutti.